Eh sì, solo qualche tempo fa non avrei mai pensato di dirlo, ma ormai sono diventato abbastanza esperto e tutto sommato anche un estimatore dei Robo Aspirapolvere. Eh già, si cresce ragazzi, e quando si cresce i prodotti tecnologici di interesse cambiano anche in funzione di come cambia la propria vita, e chi vive da solo sa quanto può essere utile un prodotto del genere. Pensate che ogni tanto con i miei coetanei diventa addirittura un argomento di discussione. Tutti mi chiedono quale sia il migliore per rapporto qualità prezzo, e secondo me sì, lo era tranquillamente la Xiaomi Roborock S5, ma adesso è arrivato S5 Max ed è un'altra storia, e prima di iniziare a raccontarvela vi chiedo come sempre un bel supporto lasciando un like sotto a questo video e attivando la campanellina delle notifiche. E allora eccolo qua, Roborock S5 Max, ultimo modello e successore di quello che da due anni a questa parte ha pulito casa mia quotidianamente, cioè l'S5, del quale eredita molto a partire dal design, molto simile, secondo me anche molto bello, semplice, ben fatto, gradevole alla vista, dove permane come elemento caratterizzante la torretta col sensore di tracciamento e dove invece come grande novità appare questo nuovo contenitore per l'acqua, ora permanentemente installato e molto più capiente rispetto al vecchio, che invece andava messo e tolto ogni volta. A livello di funzionamento del robot posso dirvi che il nuovo modello pulisce sì leggermente meglio, sebbene la potenza sia la stessa, è meno rumoroso, nonostante comunque si faccia sentire, e ho notato ancora una migliore propensione a superare gli ostacoli. S5 era già buono, ma ogni tanto andava a incastrarsi e li rimaneva finché non lo si spostava manualmente, cosa che non è mai successa con il Max, che probabilmente è più caparbio di suo, ma soprattutto più intelligente preciso nei suoi movimenti. E questo è il suo grande punto di forza rispetto al modello precedente, una sorta di migliore intelligenza artificiale, o per meglio dire, un agonitmo che gestisce la parte software dell'aspirapolvere, che ora è in grado di avere una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Lui infatti mappa la casa con estrema precisione, non solo per quello che riguarda il perimetro, ma ovviamente per qualsiasi elemento presente a terra, siano essi mobili, vasi, sedie, tutti elementi che lui riconosce e tiene in memoria per le successive pulizie. Tanto è vero che il rendimento migliora dopo le prime due sessioni di pulizia. Da lì in poi si nota quanto S5 Max sia in grado di muoversi in maniera precisa e efficiente tra i vari ambienti casalinghi. Tutto si può monitorare dall'applicazione Roborock, che io vi dirò preferisco rispetto a quella comunque compatibile di Mi Home, perché è più veloce, app che dà ampio spazio alla mappa, che come vedete è divisa automaticamente in stanze, divisione che ha fatto l'intelligenza del robot e che può essere poi modificata manualmente andando a dividere o a unire le varie stanze. Ed avere stanze diverse è fondamentale per poter modulare sia l'aspirazione che il lavaggio del pavimento, in base appunto alle diverse superfici presenti. Io ad esempio qui in casa ho legno quasi dappertutto, tranne che nei bagni e in cucina, e lì infatti ho impostato un livello di erogazione dell'acqua più elevato rispetto al legno. Questo è possibile perché la vaschetta dell'acqua ora è dotata di una pompa elettrica, che appunto pompa l'acqua, mentre prima l'acqua scendeva a sgocciolamento per forza di gravità, tanto per intenderci. E anche se la vaschetta è sempre installata, comunque per attivare la pulizia del pavimento è necessario installare l'accessorio aggiuntivo con il panno che è in dotazione, in confezione, e il Max riconosce automaticamente l'installazione e andrà a variare il suo funzionamento in maniera autonoma e di conseguenza questo vuol dire che, se si prevede di lavare il pavimento, si potranno già escludere dalla mappa alcune zone specifiche, come ad esempio i tappeti. Capite bene come ormai la parte software sia la più importante di questi prodotti per rendere l'esperienza di utilizzo davvero utile in quella che poi è la nostra routine quotidiana, quindi il poter escludere alcune stanze dalla pulizia, magari che ne so, la domenica, oppure programmare la pulizia a diversi orari, o anche semplicemente poter dire ad Alexa di far partire l'aspirapolvere prima di chiudere la porta di casa uscendo la mattina, cosa che io faccio molto spesso a dire il vero. Per il momento però non c'è ancora l'integrazione con Google Assistant, ma arriverà sicuramente, fidatevi. Per quanto riguarda la pulizia, come vi dicevo, le performance sono migliorate, nonostante la potenza sia la stessa, e probabilmente questo per effetto sia della spazzolina più grande che riesce quindi ad arrivare a filo dei muri, dei mobili e degli angoli, ma soprattutto grazie a una migliore intelligenza che gli consente di muoversi con estrema precisione. Ed è migliorata invece molto la pulizia del pavimento con acqua, grazie appunto alla migliore erogazione del liquido. Prima ne usciva sempre troppo poco e il panno finiva per asciugarsi prima di aver finito tutta l'abitazione, mentre ora l'erogazione è continua e uniforme, come potete vedere anche da queste immagini. Certo, questo tipo di pulizia non può sostituire l'efficienza dello straccio, la ramazza e l'olio di gomito, ma poter pulire spesso fa in modo che poi la pulizia, quella grossa appunto, sia meno grossa, proprio perché in casa ci sarà meno polvere che gira e più nel cassettino raccogli polvere, che va svuotato spesso, almeno una volta a settimana. Il filtro è ostruito. Rimuovere la vaschetta raccogli polvere e pulire il filtro. Vaschetta raccogli polvere installata. Comunque sarà al robot ad avvisare tramite applicazione, anche su Apple Watch se lo avete, lui poi parla italiano e quindi è in grado di raccontare autonomamente le fasi del proprio funzionamento. E sempre da applicazione è possibile avere un report delle pulizie effettuate e una previsione su quando andare a cambiare materiali di consumo, come ad esempio il filtro e la spazzolina. Sempre da applicazione poi si può vedere il livello della batteria e l'autonomia devo dire è assolutamente soddisfacente. Nel mio caso con circa 57 metri quadri di superficie utile finisce sempre con almeno il 55-60% di autonomia, quindi in una sola sessione si può pulire anche case di grandi dimensioni e in caso contrario lui ritornerà alla base interrompendo le pulizie per ricaricare la batteria, ma non più al 100% come sul vecchio modello, ma solamente per la percentuale residua necessaria per terminare la pulizia con evidente risparmio di tempo. Quindi sì, devo dire che S5 Max secondo me è migliore rispetto ad S5 e lo andrà a sostituire naturalmente. Diventerà quindi il mio robot da oggi in avanti e sarà anche quello che consiglierò ai miei amici non tanto perché sia il migliore in assoluto, ce ne sono di più costosi e più evoluti, ma proprio perché secondo me è il migliore per rapporto qualità prezzo, tanto che si trova su Amazon sotto la soglia dei 500€, che per le funzioni e la qualità che offre è un prezzo assolutamente straordinario secondo il mio modo di vedere. Ma ovviamente sono curioso di sentire il vostro parere qui sotto nei commenti dove mi troverete anche per eventuali domande o aspetti che magari non ho toccato in questo video. Il resto sì, mi pare di avervelo detto a inizio video, quindi grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.